Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. Colpo di scena nel cuore della trasmissione è sempre Carta Bianca, il programma di approfondimento politico condotto con maestria da Bianca Berlinguer su Rete 4. Nell'ultima puntata, uno degli ospiti di lungo corso, lo scrittore e alpinista Mauro Corona, ha improvvisamente annunciato un evento inaspettato. Seguendo il suo stile semiserio caratteristico, De Laurentiis mi ha citato in giudizio, e sto meditando di dire addio alla televisione con delusione e amarezza. Personalmente, tifo per il Milan afferma Corona, ma quando il Napoli ha conquistato lo scudetto, ho festeggiato. Ora, però, scopro che il patron del Napoli, De Laurentiis, ha presentato una denuncia nei nostri confronti, a me e a lei. Mi ha chiamato il suo avvocato, e in ottobre dovremo comparire in tribunale. Se finiremo dentro, spero almeno ci mettano nella stessa cella. Non capisco neanche cosa abbia scatenato tutto ciò. In passato, ammiravo De Laurentiis per la sua schiettezza, come quando lo sentii contro un giornalista. Speravo in un duello, ma invece, continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma questa situazione mi ha davvero deluso. Sto riflettendo sull'idea di lasciare la televisione. Non solo un annuncio, ma uno sfogo sincero da parte dello scrittore Trentino, che continua a esprimere la sua frustrazione. È triste andare a letto pensando a cosa dire o non dire per evitare una querela. Sono un uomo onesto ma impulsivo, e comincio a essere stanco di dover pesare ogni parola. Mi sento molto esposto, vedremo di superare questo anno e poi decideremo. Quando gli viene chiesto se questa sia la sua prima querela, Corona confessa. In passato, sono stato querelato da un politico che oggi fa parte del governo. «Cerco di portare allegria nel cuore di chi mi segue». Concluso lo sfogo, Corona ritorna a condividere le sue opinioni sui temi d'attualità, focalizzandosi in particolare sull'idea di riscrivere le fiabe classiche per i bambini, criticate per essere considerate antiquate e sessiste. Come scrittore, Corona si ribella. Non sono d'accordo con la revisione delle fiabe. Sono opere monumentali che dovrebbero rimanere intatte, simili ai grandi romanzi. Naturalmente, chiunque le scriva oggi lo farà in modo diverso, affrontando temi come l'integrazione, la diversità di genere e le questioni attuali.